partiti l'ingresso addirittura si avvantaggia D.Four davanti a Velocity Keylay Mister Vellucci e Fina Bellina i cavalli entrano in dirittura è in vantaggio D.Four davanti a Mister Vellucci Guinness Wheel lungo la corda e Fina Bellina centropista è in vantaggio D.Four attaccata all'interno da Mister Vellucci lungo la corda Guinness Wheel seguono Fina Bellina e Velocity Keylay all'interno è Guinness Wheel all'esterno Mister Vellucci è in leggero vantaggio Mister Vellucci davanti a Guinness Wheel e D.Four grazie a tutti grazie a tutti Grazie.